Un invito al ministro Boschi che parla finalmente di preferenze contro il Parlamento dei nominati. Ci dica se è vera questa intenzione. In quanti collegi il capolista sarebbe eletto automaticamente? Con la legge attuale 120 in ogni partito. Dove finirebbero le preferenze? Nell'annunzio senza conseguenze? In base a questo capiremo se davvero c'è la volontà di introdurre la scelta dei cittadini e di non far decidere tutto, come sempre, ai capi partito.